La prossima avversaria è la Pistoiese, che ha due punti in classifica. Cambiato allenatore rispetto all'anno scorso, c'è Frustalupi, che è lo storico collaboratore secondo di Mazzarri. E seguendo le indicazioni del maestro, diciamo Mazzarri, gioca con la difesa a tre. I principali giocatori sono il portiere, Perucchini. Nella stagione 2014-2015, quando il Varese era ancora in Serie B, ha fatto il portiere anche del Varese. Mezza punta, abbiamo una nostra vecchia conoscenza, che è Cesarini. Cesarini, che ha giocato, noi lo conosciamo, perché ha giocato come avversario nel Pavia, nella Reggiana e nelle ultime due stagioni nella Robursiena. E purtroppo ci ha fatto anche qualche gol quando giocava nel Pavia. E come invece il puntero è il nostro grande ex, cioè Niccolò Gucci. Niccolò Gucci, grande amico di Alessandro. Un grande stimatore, un gran giocatore, secondo me ha lasciato ottimi ricordi. Beh, a Busto ha fatto due anni incredibili. Sì, molto bene. Cioè, bene, bene, bene. Sì, indica in C. La chicca è un figlio d'arte che c'è nella rosa della Pistoiese, che è il figlio di un ex premier. Il figlio di Renzi, che gioca come attaccante comunque nel reparto offensivo, è un 2001 e partirà dalla panchina, ma quest'anno l'hanno aggregato alla prima squadra della Pistoiese. Grazie. Grazie.